I fondi della regione ci sono, ora a comune di Campobasso non resta che partire. Il servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti ormai è in astri di partenza e per il momento coinvolgerà solo i commercianti del centro murattiano con i quali l'assessore Nicola Cefaratti ha organizzato una serie di incontri per illustrare i termini e le modalità del servizio. Un passo in avanti importante che segna il punto di svolta. C'è dunque soddisfazione in comune per il traguardo raggiunto ma nel frattempo dai banchi dell'opposizione si levano le critiche del consigliere del PD Antonio Battista. L'esponente del centro-sinistra chiede infatti che la differenziata venga estesa non solo a tutte le attività commerciali della città ma che coinvolga soprattutto tutte le famiglie. Una differenziata insomma a 360 gradi e non a ranghi ridotti come attualmente il servizio è stato organizzato. Battista ricorda come ormai non sia più possibile continuare a conferire in discarica tonnellate e tonnellate di rifiuti con ingenti costi per le casse comunali e soprattutto a danni all'ambiente. Un appello rivolto all'amministrazione che tuttavia dal canto suo è già pronta per il secondo step del progetto incurante delle critiche sollevate dalla minoranza. Presto l'intera città capoluogo sarà raggiunta dal servizio. Parola dell'assessore Cefaratti.